L'ho detto, assolutamente grandi complimenti e tanti auguri di buon lavoro al Presidente Macron, hanno voluto creare anche, sento subito del merito, hanno voluto alcuni commentatori, qualcuno malevolo, qualcuno superficiale, hanno voluto intendere che addirittura mi hanno attribuito dell'epenismo, una cosa ridicola, ditemi una mia frase, una qualche posizione del Movimento 5 Stelle e mia di simpatia allepenista, ho detto una cosa che non rinnego, perché poi sono un po' tignoso, e cioè che nella campagna elettorale l'Alepen ha posto delle questioni, poi non offre delle soluzioni, delle questioni che non vanno trascurate, la questione sociale non va trascurata e Ben ha detto, ho molto apprezzato la dichiarazione che ha fatto il Presidente Macron, che si farà cura di lavorare per evitare la rabbia sociale, perché c'è tanta perdita di potere d'acquisto, tanta insoddisfazione sociale, c'è un problema di tenuta sociale nelle nostre democrazie, quindi quella dichiarazione è una dichiarazione giusta, non solo ha detto di essere e voler essere il Presidente di tutti i francesi, ma si farà anche cura di interpretare la rabbia sociale, che è un fattore molto importante. Grazie.